Benvenuti ad una nuova puntata di N3TV News su Videogame, a cura di curai.eu. Sigla! Nintendo protegge Wiimote. Per far fronte all'eccessiva fragilità del controller del Wii, Nintendo ha deciso di equipaggiarlo con un guscio in silicone. La protezione verrà inclusa in ogni confezione contenente un Wiimote. Ma Nintendo ha pensato anche a chi già possiede un controller. Collegandosi al sito della casa, sarà possibile ordinare gratuitamente fino a 4 gusci per il nostro telecomando. L'operazione costerà a Nintendo più di 10 milioni di euro. Niente Wi-Fi nei cieli giapponesi. Il Giappone si appresta a nuove misure di sicurezza sugli aerei. In volo non sarà più possibile utilizzare console portatili dotate di wireless. Il Ministero dei Trasporti nipponici è infatti convinto che le onde elettromagnetiche generate dal Wi-Fi interferiscano con le strumentazioni di volo. Il sito di Super Mario Galaxy. Apre il sito giapponese di Super Mario Galaxy. Come sempre ricco di sorprese e di link nascosti, il sito è purtroppo difficile da comprendere per gli occidentali. Ma cercando un po' è possibile trovare immagini e filmati inediti di uno dei sicuri successi della stagione videoludica. Cell ovunque. Cell, il processore montato sulla PlayStation 3, riscuote grande successo anche in altri ambiti. Toshiba lo utilizzerà per un rivoluzionario sistema di riconoscimento dei movimenti a distanza. IBM invece ha annunciato che lo monterà sui suoi mainframe. In questo modo sarà possibile utilizzare queste macchine per ospitare i mondi metaforici che riscuotono sempre maggiore interesse. Solid Snake Picchia Duro Delate le caratteristiche di Solid Snake, guest art d'eccezione nel Picchia Duro parodia Super Smash Bros Brawl, di certo il protagonista di Metal Gear Solid si troverà in imbarazzo a combattere a colpi di mortaio e mine anti-uomo contro idraulici, baffuti e palle rosa. Snipe, tu sai chi è? Sì, è vero. È Mario. Mario ha fatto il primo appare in 1981. E da poi, ha diventato un fenomeno mondiale. Probabilmente non c'è un person che non conosce Mario. È così famoso. Sì, è vero che ho avvicinato abbastanza lungo per incontrarsi sul campo di battaglia, eh? Questo è una chance di una volta in una vita, Snipe. Sì, è vero. 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 Sì, è vero.